Salve a tutti, sono Matti Ciao Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto alla nuova intervista, ne stiamo facendo diverse a tanti doppiatori, personaggi del mondo dello spettacolo e oggi è il turno di una voce che soprattutto da bambino mi ha fatto compagnia. Mentre facevo merenda abbiamo Fabrizio Mazzotta, salve, benvenuto. Ciao Mattia e ciao a tutti, eccomi qua. Ti devo subito raccontare un aneddoto perché credo fosse 2010-2011, mi trovavo al Napoli Comic Con. Sì, io ormai sono un ospite fisso lì. E al ritorno per accompagnarci all'aeroporto c'era un taxi, io sono salito assieme a un mio collega e c'era un'altra persona a bordo. Ad un certo punto la sento parlare con questa voce molto riconoscibile e faccio quello che non si dovrebbe fare. Le rompo le scatole ed eri tu. Ed ero io. C'è ogni tanto, succede. Quindi abbiamo domandato, mi è rimasta impressa. Beh sì, io ogni anno vado a Napoli e ogni anno c'è appunto il taxi che ci porta in, ci riporta in stazione per partire e quindi insomma capia di fare degli incontri. E quindi ci siamo incontrati in quell'occasione, sì. Non puoi spuggire, hai questo timbro particolare che subito... Si ricollega. Sì. Va bene, un po' di domande di rito. Ovviamente dobbiamo chiedere come è iniziata la tua carriera. So che hai cominciato da bambino a fare l'attore. Esattamente, io cominciavo da piccolo, avevo circa 4-5 anni facendo l'attore. Ho cominciato facendo degli spot pubblicitari che all'epoca si chiamavano caroselli. Poi gli scimmaggianti tv che ora si chiamano fiction. E insomma, tutto come attore in carne e ossa. Quindi proprio davanti alla telecamera e così via. Poi c'erano le esigenze di doppiarmi da solo. C'era l'esigenza di doppiarmi da solo. E per cui ho imparato le tecniche del doppiaggio. E mi piaceva molto di più fare doppiaggio piuttosto che svegliarmi la mattina presto e andare sul set e magari aspettare ore e ore prima che si girasse. E quindi tutte le mie energie le ho dedicato al doppiaggio. E fino appunto a diventare direttore di doppiaggio, adattatore e così via. Bene, bene. Quindi un passaggio davanti alla macchina da presa a dietro. Quindi la presenza in carne ed ossa a quella vocale. La gavetta com'è stata? Nel senso, ti sei trovato subito a doppiare i ruoli principali? Immagino di no. O c'è stato un percorso graduale? Ma certo. Io diciamo che ho fatto una gavetta di quasi dieci anni, più o meno. E' però. Facendo piccoli ruoli, il cosiddetto brusio. E poi piano piano facendo personaggi più consistenti, piccoli ruoli, protagonisti di puntata e così via. Fino a, appunto, a doppiare anche personaggi principali, insomma. Una delle prime cose che ho doppiato come protagonista fu la famiglia Patridge. E però già era il 78, per cui avevo già cominciato, beh, da sette anni, sette, otto anni avevo cominciato. Infatti ti stavo proprio per chiedere qual è stato il ruolo, un po' della svolta, il primo da protagonista. Danny Patridge nella famiglia Patridge, sicuramente quello è stato il ruolo che mi ha dato il là, la svolta. Perché poi da quel ruolo, poi la sera appunto Anderonda in televisione, in Rai, e poi da quel ruolo poi mi hanno anche chiamato per fare personaggi più importanti, insomma. Non il brusio. Ma, insomma, fare gavette è una cosa ovviamente normale ed è giusta, insomma. Perché è un allenamento, diciamo così. La gavetta si fa in ogni campo, insomma, vale per tutti. Certo. I tuoi personaggi preferiti sono quelli che più o meno ci aspettiamo o c'è qualche outsider? Qualcuno meno noto? No, dopo tanti anni, come dire, mi sono affezionato ai personaggi iconici. Quindi Eros, Grassi Clown, il Puffo Tontolone, sono questi qua, diciamo, i personaggi preferiti. Poi però ne ho fatti anche altri, insomma, divertenti. Mi ricordo Taddeo il Pinguino nell'Occhitti. Mi ricordo un mostro cattivissimo, che era lo sgherro di un imperatore demoniaco. Una serie che si chiamava, ma una cosa colestra, Iridella mi sembra che si chiamasse la serie. Adesso cerco immediatamente. Iridella, serie televisiva, esattamente. Mi pare che fosse qui dalla serie. E io facevo appunto un mostro cattivo, che era il braccio destro di un imperatore malvagio. Mi pare di ricordare che la serie si chiamasse così. Sì, 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 ho appena controllato. Allora, le domande controverse, fino a un certo punto. Visto che tu ti sei trovato tante volte a doppiare personaggi animati, ogni qualvolta arriva un nuovo film Disney molto importante, almeno nei miei lidi e sul web in generale, si crea la polemica per l'utilizzo dei cosiddetti talent. Ah, certo. Ovvero, magari di professionisti di altri settori che si prestano, in quell'occasione, a dare la loro voce, spesso anche a personaggi importanti, i protagonisti, per rifarsi un po' la tradizione americana, dove di solito vengono chiamati attori molto importanti. Tu cosa ne pensi? Perché è una scelta che divide sempre il pubblico. Allora, ci sono stati dei talent, insomma, non sono l'unico a dirlo, devo dire, insomma, talentuosi. Pur non facendo questo come professione, sono stati bravi. Penso a Magalli, penso a Fabrizio Frizzi, per esempio, che, diciamo, di base sono presentatori televisivi. È stato anche bravo, oddio, chi è che doppiava in Mulan il... Papi. Papi, esatto, devo dire, con mia grande sorpresa, Papi, mi ha sorpreso recentemente su Elemental... Stefano De Martino? Bravissimo, Stefano De Martino mi ha sorpreso, perché... Sono d'accordo. L'ho trovato, insomma, bravo. E poi, a volte, invece, ci sono dei tipi, non voglio chiamarli talent, perché di talent hanno veramente poco, assolutamente presi a caso, non si sa neanche bene perché vengono chiamati giocatori di pallacanestro, politici, calciatori, nuotatori, o anche comici, che però, sai, fare il comico in tv poi non vuol dire fare la professione del doppiatore. È un'altra cosa, insomma. Voi pensate, se io, doppiatore, domani mi sveglio e metto a fare il calciatore, il politico o il chirurgo. È una cosa che non è fattibile, chiaramente, no? Adesso, al di là dell'importanza, la gravità più o meno di una professione, ma è il punto che una professione non la si può, come dire, inventare sul momento. Servono in tutte le cose, anni di studio, di praticantato e così via. Per cui, mettere a caso una persona che non è capace a fare questa professione, la trovo veramente una cosa stramba. E' anche vero, c'è da dire una cosa, però, questi talent, per quanto possano essere fastidiosi o bizzarri, poi non è che portano via lavoro a noi professionisti del doppiaggio, perché sono dei talent che fanno una comparsata in un film Disney o quant'altro, una volta una tantum e poi basta, finisce là. Non mi rubano il mestiere, insomma. Io comunque continuo a fare doppiaggio e, che ne so, Marco Carta o la russa, certo, non mi portano via il lavoro, ecco. Sì, quello è un frangente che viene spesso rilevato. Ogni qualvolta viene scelto un talent, c'è chi dice, perché non hanno preso un doppiatore professionista, un giovane, talentuoso, di belle speranze. Io capisco il fastidio, ma come dici tu, sono veramente esperimenti stand alone, non dico una volta all'anno, ma quasi. Allora, cioè, di brutto è che questi talent, questi nomi famosi, prendono molti, 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 ma molti più soldi di quanto invece, generalmente, prende un professionista. Però, mentre il professionista, come dire, risolve la sua parte, il suo turno di doppiaggio, in, non so, mettiamo due turni di doppiaggio, chiaramente chi non è esperto ci mette 10, 20, 30 turni di doppiaggio, cioè ci mette molto di più, ma viene pagato molto di più, che certo non lo trovo giusto. Però è anche vero che non ha senso, però, al posto di un talent, puoi chiamare un ragazzo che non ha esperienza, perché siamo da capo a 12, insomma. Poi, come dire, l'effetto sarebbe lo stesso. Ma allora, ma perché? Temi l'arrivo dell'intelligenza artificiale? Ma non lo so, non lo so perché noi non sappiamo come sarà il futuro, come verrà usata, come verrà regolamentata, non lo sappiamo al momento. Io ho visto delle cose preoccupanti, se vogliamo, insomma. Però, insomma, al momento, oggi che siamo a 29 febbraio, non sappiamo cosa sarà il futuro. Non posso immaginarcelo. E' un po' come quando si diceva ah, c'è il computer, ora l'uomo verrà soppiantato dal computer, i cartoni mati sono fatti col computer, sono tutte balle, esagerazioni, che poi, appunto, abbiamo visto col tempo che così non è, insomma. E forse anche l'intelligenza artificiale verrà in un certo modo regolamentata e usata in certa maniera piuttosto che in un'altra. Non te lo so dire. Al momento, io vedo anche delle pubblicità ingannevoli con la voce, che ne so, di Mara Venier falsa, falsificata dall'intelligenza artificiale, ma un orecchio esperto lo senti che non è Mara Venier, non è il talent, non è il personaggio conosciuto, non è la Uzzig, insomma, chi volete voi, e si sente anche perché le intonazioni le senti, ha un orecchio esperto, che sono comunque false, meccaniche. Quindi al momento, oggi, non è possibile ricreare l'interpretazione di un attore. E quindi non se ne parla. un domani, non lo so, forse sì, però è anche vero che se qualcuno vuole utilizzare la mia voce, chiaramente mi deve pagare, cioè devo essere io a dare il permesso, perché se non è un furto, e allora il furto, da che mondo è il mondo, è una cosa illegale, e non c'è niente di nuovo, niente di allarmante, un furto viene denunciato e poi incorri in beghe penali, tutto qua. Però, però, mettiamo questa cosa positiva, è che se io do il consenso a utilizzare la mia voce, e per esempio, mettiamo esempio, e la mia voce è utilizzata per fare un documentario, io però mi faccio pagare, ovviamente, ci inventiamo due euro a riga di battuta che dico. Io però, in quel momento, sto a casa, perché hanno campionato della mia voce, la mia voce è venonda, sono a casa, mi vedo la televisione, sto tranquillo, e nel frattempo, percepisco dei soldi, o ancora meglio, io in quel momento che venendo del documentario campionato, io sono a fare in sale di doppiaggio, un altro turno di doppiaggio, guadagnando, quindi allo stesso tempo, guadagno il doppio, guadagno per due prodotti diversi. Sì, quindi, c'è anche un'utilità. Per dare, è un'utilità, ecco, per mettere un'utilità. Poi vediamo, non si sa, io non mi allarmo, perché non so di cosa allarmarmi, perché non so come sarà poi lo sviluppo. Sì, c'è Edoardo Stopacciaro, mi sembra fosse lui, che ha detto che comunque, se già adesso bisogna allarmarsi, forse il lavoro dei doppiatori dovrebbe essere perfezionato, perché comunque, come dici tu, a livello tecnico, non sono ancora ottimizzati per replicare tutta la gamma espressiva, le sfumature, l'interpretazione che un essere umano può dare. Ti domando, visto che sei anche direttore di doppiaggio, quali sono le difficoltà del doppiaggio moderno, perché ormai l'abbiamo capito raccogliendo varie testimonianze, ma soprattutto nel caso di prodotti particolarmente quotati, non vedete più nulla, o quasi. anche questa ormai è una frase fatta. Allora, sicuramente rispetto a tempo fa, i ritmi sono più sostenuti, più frenetici, però è anche vero, come dire, è lo specchio dei tempi, tutti noi andiamo più veloci in qualsiasi cosa, dico una cavolata, basta pensare che adesso andiamo sulla tastiera, digitiamo un testo in pochi secondi, mentre prima c'è stava la penna bic, o addirittura che ne so, il calamaio e l'inchiostro e si andava più lenti, per dirne una. E quindi, proprio, il mondo va avanti ed è più moderno, più veloce, più frenetico. e questo chiaramente anche nel doppiaggio che però è un bene perché per esempio una volta tanti anni fa si metteva la pellicola, un pezzettino di pellicola, l'anello appunto dove noi doppiavamo però questo girava, girava, girava e si bruciava e poi una volta non si potevano non si potevano fare più di mi pare due piste separate, adesso se ne possono fare dieci, dodici per cui e si va più veloci per cui chiaramente questo è come dire un apporto moderno che velocizza i tempi però permette anche di risparmiare tempo per l'appunto è comunque un apporto utile. Poi a volte è vero che si va molto veloce per cui ecco anche io a volte direi ma forse è meglio fare meno righe durante un turno però farle bene piuttosto è questa corsa a fare righe su righe ma questo insomma è un po' un altro discorso sindacale sarebbe i trattativi sindacali anche se noi da poco appunto abbiamo avuto un rinnovo del contratto dopo mi pare dieci a sette anni quindici anni insomma parecchio e c'è stato insomma un lieve miglioramento per cui c'è stato devo dire un abbassamento delle righe di copione da doppiare durante il turno per cui abbiamo un pochino più tempo rispetto a pochi mesi fa però ti è capitato di doppiare o dirigere un prodotto dove per necessità di privacy per non far girare anticipazioni c'erano vari watermark tutto nero il pallino che si apre sulla faccia ormai sono abituato sì 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 ormai sono abituato io di tutto ho visto stavo adattando un film dove c'era una scena molto buia la copia era già di per sé è come dire antipirateria per cui era ancora più buia del normale poi c'erano diverse strisce con scritto non mi ricordo Paramount Fox non mi ricordo che cos'era poi c'erano diverse X e per cui mi ricordo che è stato veramente difficoltoso fare l'adattamento mi ricordo che feci il provino per un personaggio in Transformer 2 ho vinto il provino benissimo poi vado in sala di doppiaggio a iniziare il doppiaggio del film e lo schermo era completamente nero completamente nero e a sorpresa da qualche parte che poteva essere in su in giù destra sinistra sopra sotto e comparse un pallino che si allargava così e vedevo solamente la bocca del personaggio quindi io non sapevo questo personaggio dove stava cosa faceva se correva nulla e capita capitano queste cose sì è antipirateria e lo trovo anche giusto però come dire trovo giusto il sistema per far sì che il film venga piratato non venga duplicato eccetera però come dire c'è modo in modo insomma ma non sarebbe facile non sarebbe facile eventualmente risalire al cosiddetto colpevole voglio dire comunque in scala di doppiaggio non credo entri chiunque no ma prima sì prima ci sta chi fa le copie c'è il fondo c'è tutto c'è tutto un passaggio questo è vero questo è vero sì che è il colpevole incriminato sì no ma mi stanno bene le x le scritte che scorrono purché sia una cosa leggibile perché poi noi professionisti dobbiamo lavorarci e al meglio su questi prodotti per cui se non me li fai vedere come dire mi complichi il mio lavoro volevo chiederti che rapporto hai con la tua voce ti riascolti guardi le cose che doppi oppure eviti allora la mia voce non mi piace quindi odio riascoltarmi tendenzialmente ogni tanto se mi capita se sto a casa sì e so che va in onda quel prodotto so che c'è e sono a casa allora si accendo e voglio risentire insomma come l'ho fatto se l'ho fatto bene se l'ho fatto male ma se no non li rincorro devo dire io ho visto per esempio pochi episodi di Simpson li vedo se mi capita ma se no a volte me li perdo per dire ma spesso mi perdo le cose che faccio anzi devo dire che sono più attento alle cose che dirigo piuttosto che alle cose che doppio ma perché forse appunto forse perché la mia voce poi mi rendo conto che come dire ci ho fatto una fortuna però a me la mia voce non piace curioso perché poi mi hai fatto una professione sì sì mi rendo conto che poi alla fine gli altri l'apprezzano sì esatto esatto l'importante è quello che apprezzino gli altri la schizofrenia sì a proposito di Crusty so che hai dovuto fare un lavoro particolare che ti arreccava abbastanza fatica a doppiarlo mi arreca tuttora una fatica un po' di meno perché sono riuscito insomma come dire a barcamenarmi ma insomma io faccio doppio Crusty Clown da 34 35 anni sì fin dalla prima stagione non sei mai cambiato perché altri si sono alternati tu allora sono cambiati tutti i personaggi nel corso delle stagioni tutti i doppiatori sono cambiati tranne me Lisa Simpson e il signor Barnes solo questi tre personaggi sono rimasti dalla prima stagione fino a quest'ultima 34esima 35esima non mi ricordo se no il resto del cast nel corso degli anni sono sempre cambiati Bo Winchester tutti cambiati sono e quando io vinsi il provino fu un provino difficilissimo lungo complicato perché c'era sia il direttore doppiaggio di allora togono a colla che la funzionaria di Mediaset e giustamente peraltro i provini funzionano così non piaceva la voce che proponevo allora le proponevo un'altra non andava bene ne inventavo un'altra non andava bene alla fine ho detto tra me e me adesso faccio un tipo di voce completamente all'opposto di quella che in genere faccio e vediamo che dicono fece questa voce ehi salve ecco benissimo io ho detto porca miseria questa voce adesso che è faticosissima e i primi tempi che avevo ero più giovane e quindi avevo anche le corde vocali più morbide più giovani fare questa vociaccia mi procurava una fatica enorme tant'è che spesso uscivo dalla sala di doppiaggio dopo aver fatto il turno dei simpson completamente afono ma anche adesso che riesco diciamo col tempo con l'età la voce si è comunque si è più arrochita e quindi è più vicina al timbro dell'originale io poi appunto sapendo come la voce riesco a a stare in equilibrio sulla difficoltà però è tuttora difficile per cui io a un certo punto più di un totte di righe non faccio perché proprio non ce la faccio fisicamente e diventa diventerebbe una fatica immane strano perché poi te lo sei portato dietro come dicevi per 34 stagioni e in alcune puntate parla anche tanto non è sempre un personaggio di contorno bravissima questo stavo per dire ma oltretutto Crassi in alcune puntate parla tantissimo e fa delle cose inverosimili tossisce sbuffa urla poi riabbassa la voce fa di tutto io mi ricordo ultimamente ho doppiato l'episodio dove era una specie di omaggio a Hit di Stephen King e lì Crassi fa di tutto e fu veramente faticoso proprio stare appresso al personaggio animato però questo è il bello e il brutto di fare doppiaggio però certo insomma ci vuole ci vuole mestiere ecco mettiamola così tu appunto sei anche un direttore ti domando come è avvenuto il passaggio quando è che l'hai sentito nelle tue corde e il lavoro a cui sei più affezionato anche se credo di saperlo già ma il pubblico eh sì allora niente è avvenuto allora diciamo che io forse avevo vent'anni ventidue anni per tutta una serie di disguidi mancava un direttore poi ne mancava il sostituto poi mancava il sostituto e il sostituto alla fine mi ricordo che era una serie di cartoni animati che parlava mi pare di pompieri una cosa di Anne Barbera non mi ricordo bene insomma alla fine non c'era nessun direttore e per cui diciamo io mi sono un po' improvvisato con l'aiuto anche dei miei colleghi e quella fu una specie di prototurno di direzione di doppiaggio ma diciamo la vera carriera di direttore di doppiaggio fu attraverso l'epoca Granata Video che importava gli anime giapponesi in VHS e quindi poi questi necessitavano di doppiaggio e quindi eh chiamarono me se me la sentivo e ho detto ma faccio piaggio tanti anni i cartoni animati mi piacciono i cartoni giapponesi che molti come dire snobbavano io invece avevo visto come dire l'importanza di questo nuovo mezzo di questa nuova corrente di animazione parliamo dei anni 90 eh quindi all'epoca erano anche un po' visti mali i cartoni giapponesi insomma mi sono imbarcato in questa avventura e piano piano chiaramente appunto come in tutte le cose uno prende dimestichezza e poi dai cartoni animati poi ho diretto anche serie tv film e un po' tutto insomma e la serie che mi è piaciuta di più dirigere è la serie tv per prime video Amazon Prime Video che è la fantastica signora Maisel che ha vinto che ha vinto tantissimi premi anzi era un po' un tormentone Golden Globe The Marvelous Mrs. Maisel sì 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 ma anche recentemente di meno ma ha vinto due attori di Miss Maisel hanno vinto recentemente i Golden Globe cioè non smettono ancora di di vincere e come selezioni le voci cerchi l'aderenza alla vocalità originale ti basi più sull'aspetto dell'attore quindi su una voce plausibile che può uscire da quel corpo no 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 allora diciamo che di base mi baso sull'aderenza vocale cioè la voce italiana deve essere simile alla voce originale però 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 attenzione perché formorestando questa cosa qua poi a me serve anche che sì doppiatore va bene che abbia la voce simile all'originale però nelle sue corde deve esserci anche la capacità di ricreare la personalità del personaggio e quindi mi serve anche un doppiatore capace appunto di di farmi credere in quel personaggio io posso essere un doppiatore di esperienza però chiaramente non potrei mai doppiare James Bond per un sacco di ragioni per il tipo di voce per il modo di recitare chiaramente non sarei credibile anche se a me se non concesso la mia voce fosse simile all'attore che fa James Bond ma non basta insomma non basta solamente l'aderenza vocale serve anche come dire un background attoriale che ti permette di calarti in quel personaggio che non è da tutti insomma non è detto che tutti sappiano doppiare tutto giusto perché comunque è anche un lavoro attoriale quindi c'è anche la questione di se vogliamo trascorsi abitudine interpretare certi personaggi a differenza di altri faccio un esempio all'eccesso chiaramente Woody Allen che sicuramente è un bravo attore un bravo regista però non lo metteressi mai a fare James Bond uno direbbe eh no ma quello è bravo è un attore se vuole è capace di fare James Bond no no c'è anche un physique du role e come c'è un physique du role c'è anche un non so un boys du role che mettiamola così sì è in dubbio e in pochi sanno che sei anche un fumettista sì 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 la mia la mia grande passione la mia prima passione io doppiaggio così mi piace molto fare doppiaggio ma il mio primo amore è sicuramente insomma l'autore di fumetti fare i fumetti io sono un grande esperto di fumetti da sempre eh c'è stato un periodo mh una decina d'anni dove ho lavorato appunto nel campo dei fumetti facendo sceneggiature e disegni ho lavorato per Topolino la Disney Lupo Alberto Cattivic Splatter Horror eh all'epoca c'erano anche diverse riviste per per adolescenti Rosa Shocking cioè insomma ho ho lavorato parecchio poi a un certo punto appunto mi fecero la proposta di diventare direttore di doppiaggio questo mi ha praticamente occupato l'intera giornata le intere giornate e quindi purtroppo ho un po' lasciato perdere i fumetti con grande dispiacere devo dire e però come dire cavalcolonda del doppiaggio perché è quella che eh innanzitutto mi piace e poi come dire mi fa portare il pane a casa certo altra domanda che mi sono segnato tu sei una voce approvata da Steven Spielberg sì esatto 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 allora venne parliamo sempre degli anni 90 forse metà anni 90 non ricordo bene venne una nuova serie di Spielberg prodotta da Spielberg in animazione gli Animaniacs e all'interno di questa serie Animaniacs c'erano gli episodi di Pink e The Brain due topini bianchi che volevano conquistare il mondo e quindi come spesso succede sono stati fatti dei provini a diversi doppiatori ehm di Roma eh io ho fatto il provino e ho aspettato un po' di tempo vedevo che la risposta non arrivava e quindi ho dato per scontato che questo provino io non l'avessi vinto e avrà vinto un altro bravo collega insomma sono cose all'orino del giorno che capitano spesso insomma invece devo dire dopo tanto tempo mi arrivo a te e fu un'altra dicendo guarda hai vinto il provino e ti ha scelto Spielberg in persona oh butta la via questa cosa me la rivendo sempre perché è bello insomma mi sento un pavone la coda da pavone essere scelto da Spielberg è amica da tutti no assolutamente ci sono due domande forse ne sono arrivate altre no sono sempre due da parte di un abbonato domande audio che sentiamo quest'abbonato al canale si chiama signor Spielbergo sempre per rifarsi in simpson oh là esatto in quella puntata tra l'altro Crusty c'era bene eccolo qua ciao a tutti è Matteo che è il grandissimo doppiatore Massota che è qui presente per l'intervista mi fa molto piacere sentire la sua voce io lo ricordo oltre a aver doppiato Casting Clown che lo conoscono tanti in tutti anche come voce del mignolo il mignolo col prof che è un cartone molto carino guardando su wikipedia sul sito di Antonio Genna ho scoperto che oltre a fare il doppiatore fa anche il direttore del doppiaggio e volevo sapere quali sono le difficoltà maggiori in questo ruolo ciao a tutti più o meno avevamo toccato l'argomento ma forse non proprio le difficoltà beh la difficoltà allora è coordinare il tutto perché il direttore di doppiaggio è come un regista per un film per cui tu devi avere veramente la situazione sotto controllo ricordarti ogni scena e e e quindi anche un'interizione fra i personaggi perché capita che magari un attore un doppiatore viene a fare il suo ruolo e ha appunto una scena due con un altro personaggio e poi però l'altro doppiatore che doppia l'altro personaggio magari viene una settimana dopo perché io devo ricordare tutta la scena come ha fatto la battuta precedentemente l'attore poi è vero che la sentiamo anche volendo eh però insomma c'è tutto un coordinamento la cosa divertente è che prima di arrivare in sala di doppiaggio appunto io ho il prodotto in anteprima e devo scegliere le voci e quella è una cosa divertente la trovo molto creativa e è bello mi piace insomma e poi mi piace in un certo modo come dire a modo mio creare creare una cosa dal nulla dall'inglese dall'americano poi creare una cosa in italiano renderla comprensibile al pubblico italiano un pochino anche grazie grazie al mio apporto oltre a quello dei doppiatori fonici assistenti e così via c'è una seconda domanda sempre da parte di Spielberg eccola come secondo devo fare i complimenti al signor Massot per come ha diretto e adattato gli ultimi film animati di Dragon Ball che sono anche arrivati in sala anche nel fatto di aver utilizzato i termini che si leggevano nel manga tipo Senso posto di fagioli di Balsar che era un'invenzione della Mediaset e anche i personaggi hanno i nomi originali e non i nomi inventati appunto dalla Mediaset ad esempio c'è Piccolo e non c'è non viene chiamato Junior mi sono capito ciao ecco questa scelta da cosa è dovuta il ritorno all'originale guarda è dovuta perché prima che la sera andassi in onda su Mediaset per anni 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 io attraverso la Granata Video e poi Dynamic Italia avevo diretto mi pare una dozzina di film di Dragon Ball e a me sembrava giusto naturale ma neanche mi sono posto il problema mi è sembrato giusto mantenere i nomi originali giapponesi ma ripeto poi ancora la serie Mediaset era di là da venire proprio non era non era stata acquistata e quindi all'epoca negli anni 90 fine anni 90 più o meno ho adattato e poi diretto il doppiaggio dei film di Dragon Ball mantenendo i nomi originali quindi appunto non Oscar ma o long non Junior ma piccolo e così via i Saiyan e non i Saiyan esattamente ma invece Mediaset ha comprato la serie e poi l'ha doppiata con altri attori per diversi anni e ha cambiato i nomi un po' come dire rendendo tutto un pochino forse infantile e poi però diversi anni dopo questi film la Lucky Red comprò un film di Dragon Ball per mandarlo al cinema e appunto si rivolse a me perché avevano visto che io avevo diretto i film all'epoca per la Granata Video e quindi io però come dire in maniera coerente ho rimesso sempre i nomi originali piuttosto che i nomi Mediaset e questa è stata una scelta in come dire in con l'approvazione alla Lucky Red chiaramente e poi dopo ho fatto un altro un altro ancora sempre mantenendo ripeto l'originale perché mi sembrava giusto insomma va bene vediamo se ci sono delle domande della chat perché adesso lascio un po' di spazio agli utenti e ne avevo trovata una sempre in merito a film che a volte vengono doppiati non dico al buio ma quasi l'utente chiede se non sarebbe utile mostrare il film in lingua originale i doppiatori prima di doppiarlo anche perché immagino che firmando contratti di riservatezza non ci sarebbero problemi io so che a volte è successo ma non è la norma no esatto allora succedeva tantissimi anni fa diciamo negli anni negli anni 40 è successo che magari vedevano il film in anteprima adesso praticamente non succede più perché non c'è tempo perché è difficile coordinare tutti quanti gli attori perché poi comunque vedi il film in anteprima e boh sì alla fine cosa cambia tanto comunque poi in sala lo vedi volta per volta poi il direttore doppiaggio appunto è lì apposta per spiegarti passo passo cosa devi fare e quale quale interpretazione quale intonazione è meglio usare per quella scena perché poi succede questo può succedere a quell'altro c'è appunto il direttore doppiaggio che ti spiega ti dà una mano e sì ci sono i contratti di riservatezza adesso assolutamente è vietato divulgare il finale o delle scene chiave tantomeno chiaramente fare video con il telefonino o audio e quindi proprio fermiamo dei contratti di riservatezza e ai quali ovviamente dobbiamo attenerci c'è chi ti chiedeva domanda curiosa sei doppiato Mariangela in Fantozzi sì confesso di sì ho doppiato in un film forse due ma non mi ricordo in un film sicuramente ho doppiato Mariangela figlia di Fantozzi che diceva una cosa tipo papino ma non sono bella sai che non avevo idea mi sembra che ero il primo il secondo film di Fantozzi non mi ricordo però ogni tanto questo schedo nell'armadio ritorna ma devi tirare fuori sì vabbè comunque un ruolo di prestigio certo è simpatica iconico esatto iconico vediamo se ci sono altri quesiti allora perché poi nuovi commenti ci sono sempre vedi in tanti non se lo aspettavano dicono che era Fantozzi contro tutti ah bravi bravi ok mi fido che esperti eh sì 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 poi c'è chi conosceva la tua carriera da direttore direttore del doppiaggio italiano di Evangelion leggo è vero è vero doppiato parte della della serie di Evangelion che andava in onda su MTV e e tutti i film di Evangelion tutti che sono una marea una decina credo non mi ricordo insomma tanti e tutti li ho doppiati doppiati ridoppiati ridoppiati versioni nuove versioni cinema di tutto ho fatto ti chiedono se hai conosciuto Paolo Torrisi no purtroppo no 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 mi piaceva molto la sua voce io sono legato molti saranno legati ovviamente giustamente alla voce di Paolo Torrisi in Goku di Dragon Ball io invece sono legato alla voce di Torrisi perché doppiava Arin in Dangward e a me piaceva molto la sua voce su appunto su questo protagonista che si chiamava Arin ma poi doppiava anche Grisù il draghetto insomma anche lui è stata una voce iconica sì sì poi ovvio i giovani se lo ricordano in particolare per Goku continuamente riproposta e replicata questo è proprio ammetto alzo le mani sbaglio Shotarumendo si dice nella serie Lamu ha avuto anche un doppiatore diverso io ricordo solo Fabrizio qualche aneddoto qui mi dichiaro impreparato allora nella serie Lamu insomma chi l'ha seguita parlo delle primissime puntate quando insomma andò in onda oddio cos'era fino anni 80 credo nelle tv private nelle varie reti locali private e il doppiaggio insomma era un po' strano perché io appunto io ho doppiato Lamu però oltre a me l'ha doppiato anche Christian Fassetta Stefan Ofri ma io anche doppiavo altri personaggi una puntata sì una puntata no era una cosa un po' così però ho doppiato diverse puntate di Mendo e quindi giustamente c'è chi si ricorda solamente me ma c'è stato anche diciamo ciò dividevamo spesso io e Stefan Ofri quando poi tanti anni dopo mi venne proposto di doppiare di dirigere il doppiaggio delle nuove puntate di Lamu le inedite io ho ripreso il ruolo di Mendo ma mi venne una oddio come si chiama una vabbè ero diventato Afono e per cui non riuscivo più a doppiare Mendo perché anche quello era abbastanza complicato e per cui l'ho dato proprio l'ho regalato in toto d'ora in poi e suo a Stefan Ofri che insomma un collega bravissimo a tutta la mia stima e quindi appunto ricordo che la serie di Lamu di cui ho diretto il doppiaggio poi a parte poche puntate tutto il resto l'ha doppiato Mendo l'ha doppiato egregiamente Stefan Ofri Ti domandano che ricordi hai delle tue vecchie esperienze al doppiaggio italiano durante gli anni 80 e 90 considerando che erano periodi in cui si italianizzava eccessivamente beh allora questa però è una cosa devo dire oggettivamente è una cosa più da media sette che italianizzavano molto quindi Johnny Carletto Ambrogino Tinetta Saretta queste cose qua io devo dire quando ho doppiato i cartoni animati più o meno si manteneva i numeri originali non sempre ma però penso a Mila e Sciro Eros Pollon Giuli Pepperino Inventa Tutto Pelin ma ora sì ci saranno anche state però non mi ricordo eccessive traduzioni strambe insomma o rimaneggiamenti della storia ecco no quello neanch'io oddio Dragon Ball in particolare c'erano dei frangenti poi da media sette appunto già in media sette parliamo di media sette diciamo questa cosa poi magari mi sbaglio se qualcuno mi corregge ok insomma ci sto può essere però mi ricordo tutta questa eccessiva italianizzazione ripeto Tinetta Ambrogio Saretta più da media sette in poi sì sì vero Olly e Benji tutti i nomi ci mancherebbe va bene qualche aneddoto curioso un momento in sala di doppiaggi in cui ti sei sbellicato dalle risate una situazione insolita mi viene in mente guardando il tuo schermo che ci sta la maschera di Scream e certo e io ho diretto tra l'altro con grande piacere le due serie divisive di Scream tratte da diciamo dai film di Scream che in comune avevano la maschera dell'assassino ma poi in realtà sì era una storia originale era una storia originale sì che poi in realtà ho diretto tre serie di Scream televisive ma sono andate in onda solamente due e la terza per una questione la terza è rarissima anche io non sono mai riuscita non credo che non sia mandata in onda la terza c'è un problema i diritti l'abbiamo completamente doppiata non era neanche malvagia però non è mai andata in onda sì che poi rispetto alle prime due era una nuova storia ancora diversa bravissimo sì 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 io ero affezionato diciamo ai personaggi delle prime due stagioni però anche la terza devo dire aveva un suo perché era abbastanza ti teneva ti teneva attento è stata una bella serie però purtroppo non è andata in onda e però mi ricordo che facciamo gli scherzi a Elena Perino e quindi mettiamo la maschera spegniamo la luce e lei si prendeva un colpo insomma ecco ste cavolate così bene Manuel domanda siccome la tua voce è molto particolare mi chiedevo se ti trovi più a tuo agio a doppiare serie animate o live action quale dei due media è più facilitato ma guarda chiaramente quando doppio attore in carne e ossa la maggior parte sono comunque personaggi particolari o sono appunto delle macchiette personaggi caratteristici o magari mi è successo un po' di volte che non so assassini psicopatici per cui comunque sempre persone sempre personaggi particolari ecco mettiamola così no no mi è quasi indifferente probabilmente mi viene però più spontaneo più facile fare cartone animati quello sì forse un pochino più cartone animati però poi alla fine se il personaggio è interessante uno vale l'altro ecco o animazione o live uno vale l'altro mi voglio divertire ecco mi piace divertirvi l'importante è quello bene allora secondo me possiamo anche chiudere abbiamo sviscerato tantissimi aspetti sei stato molto puntuale nelle risposte magari se arriva qualche altra domanda dell'ultimo secondo certo sì sì da parte della chat soddisfiamo le curiosità altrimenti ci salutiamo ecco io sono qua qualche secondo d'attesa vediamo se ci sono altre domande audio per scrupolo Spielberg l'abbiamo sentito ma mi sembra che tutti siano belli soddisfatti sazi e satolli io controllo per scrupolo non vorrei aver tralasciato nessuno quindi ripercorro la roba di fantazzi me la porto nel cuore sinceramente adesso devo rivedere il film per sentirti quali psicopatici hai doppiato in quali serie perché non ti associo al malvagio non so perché allora ci fu un film che si chiamava la nave faro dove doppiavo un proprio un omone gigantesco che aveva appunto la voce però di contrasto la voce molto leggera la mia appunto dove appunto faceva questa strage su questa nave con degli ostaggi adesso non ricordo bene la storia per intero però insomma mi ricordo che teneva diciamo sotto sotto la minaccia delle armi questi ostaggi questo è un film che andò al cinema e poi un altro film televisivo dove appunto doppiavo un altro psicopatico che ce l'aveva con una donna con una mamma non mi ricordo bene però appunto anche lì facevo il psicopatico e chiaramente mi sono divertito da matti eh beh quali fra i personaggi dei robottoni anni 80 preferivi? beh allora io andavo veramente mi piaceva tantissimo gig robot e mi ricordo che eh una volta proprio feci sega a scuola non andai a scuola perché volevo vedere una puntata dove finalmente si scopriva chi cavolo era Hiroshi perché riusciva a diventare la testa di un robot e poi appunto fare in modo che pezzi magnetici eh si unissero a lui e quindi appunto mi ricordo che non andai a scuola quel pomeriggio perché c'era sta puntata ma poi fu una delusione perché un errore di adattamento di traduzione eh c'era Hiroshi che diceva eh come si chiamava il padre il professore eh vabbè ora mi sfugge no vabbè insomma Hiroshi domandava al padre padre ma insomma eh finalmente dimmi ma io chi sono e poi gli rispondeva Hiroshi tu io dai ora lo dice ora lo dice tu sei come Superman ma io ma che vuol dire che cosa vuol dire no in realtà dopo insomma un criptoniano no tu sei un cyborg voleva dire questo sei un essere eh artificiale fatto con con dei pezzi artificiali perché ha avuto un incidente eh stradale e per cui evidentemente io ho ricostruito questa cosa qua eh è stato ricostruito con dei pezzi appunto bionici eh e quindi era non era un essere umano completo e questo gli permetteva appunto poi di trasformarsi nella finzione del cartone giapponese in gig però insomma ho perso scuola per niente per una boiata per sentire una boiata ricordo anche io una grandissima delusione animata eh una puntata di Will e il Coyote eh no sì che era stata sponsorizzata ma veramente dalla Rai in pompa magna dicendo finalmente riesce a catturare Bip Bip quindi eh cosa succede e poi invece era una gag del cavolo eh sì ma veramente ma mi pare che riesce a capire sì però lui Bip è gigante no eh entrano in una sorta di tubo che cambia le loro dimensioni quindi Bip è gigantesco lui è piccolino e gli prende la gamba ma non può far niente eh certo e ok io mi aspettavo qualcosa di sconvolgente rivoluzionario lo prende perché a me invece mi sembra di ricordare un episodio dove riesce a prenderlo lui tutto contento e poi adesso non mi ricordo per quale gag ovviamente gli sfugge e la cosa ricomincia all'infinito come un loop sarebbe stato bello se l'avesse lasciato scappare perché alla fine non si può averlo catturato si rendeva conto che la sua vita non avrebbe più avuto alcun senso e alcun obiettivo e allora vai è certo troppo introspettivo forse eh perché no sarebbe stato bello cavolo però un po' troppo ambizioso ultimissime cose secondo te Alessandra Valeri Manera ha avuto una grande influenza nel panorama del doppiaggio italiano? beh sì sicuramente sì io Valeri Manera lavorava più che altro a Milano però sì sicuramente insomma è stato un nome che ormai è scolpito nella storia dell'animazione giapponese e quindi anche nel doppiaggio italiano insomma lei supervisionava anche insomma il doppiaggio anche se credo che il contributo l'abbia dato più che altro anche per le canzoni insomma ecco sì sì scriveva le canzoni di Cristina Davena e poi supervisionava anche Bim Bum Bam e supervisionava esatto Bim Bum Bam i cartoni insomma di certo un contributo grande lo ha dato e come per chiudere veramente l'ultima cosa che leggiamo c'è chi ti vorrebbe sentire a doppiare Joker bello eh mi piacerebbe da basti a Joker sono d'accordo eh non mi dispiacerebbe doppiare Joker non sai che effettivamente pensando lo scherzo che ride perfetto basta è fatta questo è un provino che registreremo e manderemo a chi di dovere grazie mille per essere stato con me con noi e per aver risposto a questo giro di domande una bella smitragliata grazie veramente per la disponibilità grazie grazie è stato un piacere io ringrazio il pubblico ovviamente vi rimando alle prossime dirette alle prossime interviste e grazie per tutta l'attenzione e per le domande sicuramente curiose a volte proprio anche specifiche brava perfetto alla prossima ragazzi buona serata ciao a tutti ciao ciao